Esistono storie che esistono. Basta, basta! Vado di Dio con la bomba! Vado io, vado io! E tu chi sei? Veniva da un posto molto lontano. Ieri sera la notizia dell'avvistamento di strade luci nei cieli di Glutammato a mare. Alcuni parlano di UFO. Hai visto che roba già? Sì, ma sono troppo stanco, vado a dormire. Molly, guarda, ho trovato un extraterrestre. Santo Dio! Dobbiamo chiamare la polizia! Non preoccuparti, ti proteggerò io. Il difficile cammino per integrarsi. Può giocare anche lui? Ma secondo me non sa giocare. Al massimo può fare il pallone. Cattivo! Il mio amico deve fare la lastra. Santo Dio! Non possiamo curare una creatura come questa nel nostro ospedale! Oddio! Mi ha già preso la posta! È stato lui! Non è vero! Non è stato lui! È stato lui! Potete iscrivere il mio amico a scuola? Santo Dio! Non c'è posto per quell'essere! Portamelo via! Santo Dio! Ma cos'è questo? Mamma, non lo cacciare! È il mio amico alieno! Ma non possiamo tenerlo! Dobbiamo denunciarlo almeno alla polizia! No, no! Dagli autori degli incontri di un certo tipo. Giovanotto, fermo o sparo! No, non gli fate del male! Non ti preoccupare, vogliamo solo rimandarlo al suo paese! Ma perché? Perché è un extracomunitario! Ecco perché è un film di Maccio Capatonda! Delevano casa! Uè, ma sei morto? È stato lui che amo, questo bimbo mi fa spendere un sacco di soldi! Ciao!